Ciao Abbiamo fatto un pranzo con gli amici moldavi, a ricordo di tutti i dolori prima, adesso no, adesso va bene. C'è solo una cosa, se non c'erano questi forse erano più magro, era più magro, è stato un danno. Bellissima giornata, indimenticabile. Lo consiglio a tutti, sono dei fenomeni, se avete problemi di denti dovete solo che andare in Moldavia. Giornata fantastica, siamo stati benissimo con i miei amici, lei già c'è stata in clinica. Quando stiamo con voi siamo contenti, perché è come stare in famiglia, siete persone eccezionali, veramente. Grazie di tutto. Grazie a voi che siamo una famiglia. Una bella giornata con bella gente. Bene, bene, tutto bene. Pranzo tipico romanesco, no? Con pizzetta mortazza, proprio quello che ci vuole. Mi farebbe piacere che tornassi ancora una volta, perché insomma a Roma non vi conoscono ancora bene. Se vi conoscessero meglio forse sarebbero un pochino più convinti. Quando sto con voi è come se entrasse in famiglia, sto bene sempre. Sono molto contento di questo pranzo con i nostri pazienti, che abbiamo visto i nostri vecchi, nuovi pazienti, che tutti stanno bene, che si sentono bene. Sono contento che oggi, questa giornata, parte dalla nostra equipe, è qua con noi, che abbiamo la possibilità di conoscere di più pazienti, che possiamo andare dopo di vedere il Vaticano, perché ancora non l'abbiamo visto. Dottor Palma sta parlando sempre con i pazienti, non lo so che cosa dice, ma sta parlando. Dobbiamo andare. Grazie.